Il quarto appuntamento dell'International GT Open edizione 2017 si torna dopo tre anni a Budapest e splende il sole nel primo turno di qualifico e dopo la pioggia nella notte si è potuto comunque montare le gomme slick. L'inquadrato Giovanni Venturini ha tenuto la pole position provvisoria fino a 5 minuti dalla fine ma ha dovuto arrendersi al ritorno dell'inquadrata Mercedes AMG GT3 di Lance Arnold al debutto in campionato in sostituzione di Tom Oson Cole. La pole inquadrata anche la Ferrari di Marco Cioci purtroppo ferma per un problema al cambio dunque Mercedes in prima fila la meravigliosa vettura numero 20 di casa STS Automotive Performance. La pole position invece per l'inquadrata Ferrari 488 di Spirit of Race con Michel Mack autore di un incredibile tempo di 1,42,907,189 millesimi di vantaggio nei confronti della concorrenza. Il danese aveva dovuto abortire col primo set il tentativo ma è riuscito a tornare davanti a tutti per cercare di applicare quella che è stata la vittoria nel precedente appuntamento del Pol Ricard in coppia col compagno Miguel Ramos. Dunque Mack Arnold la prima fila Venturini ed il debuttante Thiago Monteiro in seconda la gioia ovviamente dello Spirit of Race.